Ben ritrovati cari amici di Chiara e Tondo, naturalmente oggi sono con Riccardo che fa parte dello staff di Spazio Libero, il negozio della nostra amica Laura Eva Carli in via Masaccio ad Arezzo. Ciao Riccardo, come stai? Molto bene, grazie. Allora, Riccardo è stato molto gentile ed è molto carino perché oggi ci vuole parlare non solo diciamo di mobili, perché sapete qui allo Spazio Libero vendiamo mobili, divani, cucine, però vendono anche oggettistica, giusto Riccardo? Esatto, sì, i quadri, le stampe, certo, tutte le cose per la cucina, le posate, portafrutta, oppure anche appunto per far piacere quotidianamente, per avere il piccolo oggettino simpatico e a poco prezzo. Esatto, per esempio dei piccoli regali da fare ad amici, potete trovare anche degli oggetti a modiche cifre e come vediamo ci sono le anteprima per il Natale, giusto Riccardo? Certo, perché il Natale è alle porte, insomma, bisogna organizzarci e quindi abbiamo già delle preview per il Natale, insomma, dalle piccole cose a quelle un po' più costose, ovviamente, insomma, per tutti i prezzi. Quindi si parte da, diciamo, oggetti, come vediamo, delle candele da 1,99 euro fino ad arrivare, sempre rimanendo in cifre abbastanza modiche, sui 20-30 euro. Assolutamente sì. Secondo te quest'anno che cosa, visto che si parla sempre di crisi, insomma, che cosa pensi che gli italiani possano regalare, insomma, visto che comunque avete anche tante cose a cifre abbastanza buone? Certo, certo. La cosa più semplice da noi da trovare sono le stampe di tutti i generi, possiamo partire da Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, oppure le stampe più colorate come gli animali, oppure i paesaggi di città tipo New York, Parigi, insomma, tutte queste cosine simpatiche che fanno arredamento. Naturalmente, se venite a Spazio Libero, ci sarà Laura Eva Carli, ma troverete anche Riccardo, che penso vi aiuterà, perché è molto gentile, non solo a trovare dei regali, ma anche ad arredare la vostra casa. Assolutamente sì. Quindi io ringrazio Riccardo, venite a trovarlo qui a Spazio Libero, nel negozio di Laura Eva Carli, in via Masaccia d'Arezzo. Riccardo, noi ti ringraziamo e intanto ci facciamo un giro, perché sono curiosa di vedere queste anteprime, ma noi salutiamo i nostri amici. Grazie a voi.